Sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Gioiosa Marea e Patti dal 10 luglio all'8 settembre. Per questo periodo saranno attivi i servizi sostitutivi con autobus per collegare i viaggiatori da Gioiosa Marea e Brolo verso Sant'Agata Militello e Palermo e da Patti verso Messina. Sono alcuni passaggi dell'incontro che si è svolto al Dipartimento regionale dei trasporti, in cui si è discusso anche dell'interruzione programmata tra Bicocca Augusta e Bicocca Catena Nuova tra il 9 giugno ed il 7 luglio e anche dell'orario dei treni che sarà operativo dal prossimo 9 giugno. Per quel che riguarda l'area tirrenica è rimasta invariata l'offerta dei treni tra le stazioni di Sant'Agata Militello e Palermo. In avanti gli effetti dell'interruzione tra le stazioni di Gioiosa Marea e Patti. I treni regionali veloci provenienti da Palermo si fermeranno a Brolo, da lì ci sarà il trasferimento in autobus fino a Patti via Autostrada. L'orario dei treni in partenza da Patti verso Messina sarà ovviamente condizionato dall'arrivo degli autobus da Brolo. Lo stesso avverrà per i treni regionali che si fermeranno alla stazione di Gioiosa Marea. Da qui gli autobus proseguiranno però sulla strada statale 113 verso Patti. Oltre a queste modifiche sono state previste soppressioni di treni. I regionali veloci 3773 che parte da Messina alle ore 6 e 38, il 3782 che parte da Palermo alle ore 14 e 27 e il 3781 che parte da Messina alle ore 14 e 40. Tutti e tre saranno sostituiti con autobus. Il primo da Messina a Brolo, il secondo da Brolo a Messina e il terzo nel giorno festivo da Messina a Brolo. Invece nel giorno feriale dal treno regionale 12709. Per quel che riguarda la stazione di San Giorgio sarà servita da un bus piccolo che farà la spola verso Patti. Dal 9 giugno prossimo, giorni in cui entrerà in vigore l'orario estivo, al treno 12753 che parte da Messina alle ore 6 e 43 verso Sant'Aga da Militello è stata assegnata anche la nuova fermata a Zappulla. Mentre al treno 12754 che parte da Sant'Aga da Militello alle ore 6 e 54 è stata assegnata la nuova fermata a Terme Vigliatore. Siamo soddisfatti delle nuove disposizioni, è dichiarato Giacomo Fazio, presidente del Comitato Pendolari Sicilia, soprattutto perché abbiamo evitato che l'interruzione venisse allargata all'intera tratta da Messina a Sant'Aga da Militello.